no avanti Hiroshi è venuto il momento di dimostrare quello che va ti ho sottoposto a quel duro allenamento perché tu fossi in grado di affrontare una situazione come questa volevo che tu potessi batterti da pari a pari contro i nostri nemici anche prima di completare la trasformazione ma se dovessi soccombere la campana di bronza andrà perduta dentro di te hai tutta la forza che ti serve per difenderla Hiroshi devi essere convinto che ora sei molto più potente di te e nessuno ti potrà passare non ti servirà a niente questa nuova trasformazione perché ti ucciderò non solo ho un nuovo aspetto ma anche nuove armi avanti Mimashi fatti sotto tu hai scoperto il segreto della campana ma non lo rivelerai a nessuno perché io ti ucciderò Ikima Mimashi che vuoi? la regina Emika mi ha ordinato di prendere il suo posto in questa missione ha più fiducia in me a noi due Hiroshi lancialo a me non ho bisogno del tuo aiuto taci Ikima avanti Hiroshi è venuto il momento di dimostrare quello che vado ti ho sottoposto a quel duro allenamento perché tu fossi in grado di affrontare una situazione come questa volevo che tu potessi batterti da pari a pari contro i nostri nemici anche prima di completare la trasformazione ma se dovessi soccombere la campana di bronza andrà perduta dentro di te hai tutta la forza che ti serve per difenderla Hiroshi devi essere convinto che ora sei molto più potente di te e nessuno ti potrà farlo non ti servirà a niente questa nuova trasformazione perché ti ucciderò non solo ho un nuovo aspetto ma anche nuove armi avanti Mimashi tatti sotto git robot asciaio un luogo è non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.